Sono veramente esaltato ma anche un po' in ansia di presentarvi quello che è il mio primo corso sul sito Codegrind a pagamento. L'ho fatto perché in tanti mi avete chiesto, al di là delle esercitazioni che arriveranno nel canale nelle prossime settimane e mesi, mi avete chiesto dei progetti abbastanza complessi che però richiedono abbastanza lavoro, perciò ho scelto di andare a creare corsi a pagamento, in quanto molti di voi appunto me li hanno chiesti e hanno mostrato quello che è l'interesse di andare ad investire nella loro formazione appunto anche con corsi che vanno oltre le semplici playlist su YouTube. Quello che vi propongo oggi è un corso per la creazione di API in Node e in Express da zero fino alla messa online, quindi qua ci sono tutti i vari requisiti obbligatori, se per JavaScript piuttosto che Node consigliato, Mongo, JSON, sono tutta roba che potete tranquillamente consultare sul canale gratuitamente, però in realtà a parte JavaScript potreste non sapere il resto e impararlo qua. Che cosa andremo a fare? Se vediamo qua i moduli, andremo a creare degli API all'inizio senza database, quindi impareremo solo quella che è la struttura degli API, come andare a fare le varie chiamate eccetera, dopodiché andremo a vedere come aggiungere il database e dopodiché parleremo di autenticazione, quindi andare a fare la registrazione, parleremo del JWT token, il login, e il middleware del JWT token e alla fine arriveremo a fare il deploy online, quindi andremo a mettere il nostro database online e non più in locale e dopodiché andremo a deployare su Heroku gli API. Quindi il mio scopo di questo corso è portarvi letteralmente dal non sapere cosa fare della vostra conoscenza di JavaScript o di Node persino e in 24-25 video, parliamo di letteralmente 4 ore di corso, vi vado a spiegare come mettere in piedi degli API per metterli online. Da lì in poi avrete la base necessaria e il codice di base per poter andare ad imparare ed implementare qualsiasi altra cosa che volete fare. Questo è quanto. Prendiamo una lezione esempio, questa è una lezione d'esempio, quindi qua c'è il video e sotto un pochino di documentazione che vi può aiutare, quindi dei comandi utili piuttosto che una spiegazione molto semplice, potete poi segnarla come completata e andare avanti e indietro tra le varie unità. Facciamo un esempio, da come installare Node cominciamo con l'installazione di Postman, qua vedete, andiamo avanti e abbiamo come creare il primo progetto. Quindi il mio scopo, l'avete visto anche dall'installazione di Node e di Postman, è di fornirvi tutti gli strumenti che vi servono effettivamente per andare poi a sviluppare degli API in back-end, praticamente. Quindi il mio scopo è alla fine questo. Niente, quindi questa era il video presentazione del primo corso, andrò a farne altri. Se avete necessità specifiche, scrivetemelo sotto nei commenti, fatemelo sapere via mail, insomma, sapete come contattarmi e farmi sapere le vostre esigenze. Non preoccupatevi che questi corsi a pagamento non vanno in alcun modo a deviare, rallentare o alterare quella che è il mio percorso di pubblicazione su YouTube. Credo fortemente nella formazione gratuita, ma c'è una certa soglia oltre il quale non è un problema chiedere alle persone un investimento per via della mole di lavoro che c'è dentro un corso. Quindi spero di avere vintanti, spero che qualcuno possa servire. Vi ringrazio, alla prossima. Ciao, ciao!